Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 10 dicembre 2019, questo è il giornale 17 di Fano TV e questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa che questa mattina però si concentrerà esclusivamente sul Corriere Adriatico perché il resto del Carlino ha dei problemi che non dipendono da noi nello scaricamento e nell'accesso al sito internet. E allora, il santo di oggi, oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Loreto, così come ricorda anche San Mauro e altri santi, il sole sorgerà alle 7.30 e tramonterà alle 16.31. Per quanto riguarda il tempo, vediamo le previsioni della protezione civile delle Marche, la grafica che vedete si riferisce alle prime ore della mattina quando ci sarà ancora la possibilità di piovaschi sulla costa e delle nevicate, anche nell'entroterra con il limite attorno ai 1000 metri, ma poi durante la giornata il tempo perlomeno nella parte pesarese migliorerà e lascerà il posto al sereno. Il cielo invece domani mattina sarà con foschie e possibili nebbie sulle valli e montane in rapido dissolvimento, il cielo sarà sereno domani mattina, con aumento nel corso del pomeriggio. Soffriranno dei venti che ci trarranno compagnia nel corso dell'intera giornata, mentre il giorno di giovedì, eccolo qua, giovedì 12, sarà caratterizzato da, soprattutto nella provincia pesarese, da precipitazioni al mattino con limite delle nevicate attorno ai 1500 metri. Poi avremo giovedì, insomma venerdì, un nuovo peggioramento delle condizioni con precipitazioni diffuse abbondanti lungo il crinale, poi un miglioramento invece per il fine settimana. Il giornale, anzi, il Corriere Adriatico, andiamo a vederlo subito, apre l'edizione di Pesaro con la no tax area per coloro che intendono aprire attività commerciali nel Comune di Pesaro, infatti il nuovo regolamento prevede sgravi e benefit a chi investe. Il Comune ha trovato l'accordo, imposte rimborsate per tre anni alle nuove attività. Centropagina sulla tassa di soggiorno, l'Associazione degli Albergatori chiede di gestirne il 10%, risolvete il degrado del Genica, più dignità allevante. Gli albergatori chiedono maggiori controlli ai locali fracassoni. Poi c'è la cronaca con il pulmino dei lavoratori che si schianta contro un'azienda a Vallefoglia, a Talacchio, poco dopo le 14.30, un pulmino a nove posti con sette persone a bordo, tutte straniere, ha perso il controllo mentre percorreva via Guido Rossa finendo contro il muro di riscensione dell'azienda Alba Mobili e ci sono dei feriti. Questa è la pagina di Fano invece. Gli automobilisti fanesi sono molto indisciplinati e grazie a questa, di questo modo poco corretto di guidare soprattutto quando si passa con il rosso più che poco corretto e in coscienza allo Stato puro, ma comunque detto questo, traducendo questa situazione in soldoni, il Comune di Fano incassa soldi perché chiaramente con tutte le telecamere che sono state installate in giro per la città e adesso davvero la città ne è piena e ancora non è finito, con queste telecamere dicevo sfuggire all'occhio del grande fratello è difficile, sfuggire alle multe è quasi impossibile. E allora quali sono queste cifre? Intanto dobbiamo dire che ammonta a 2 milioni e 400 mila euro l'introito previsto dall'amministrazione comunale di Fano, dalle multe che verranno pagate dai cittadini il prossimo anno per violazioni alle norme contemplate al codice della strada, oltre a 110 mila euro di recuperi coattivi, cioè di somme già segnalate però non pagate. La cifra complessiva è di 400 mila euro, superiore a quella messa a bilancio di previsione di quest'anno, perché quando il 15 novembre dell'anno scorso fu approvato dalla Giunta una delibera in cui si prevedeva di incassare 2 milioni dalle multe, mentre 100 mila euro dai recuperi coattivi. Bene, sono 400 mila euro in più rispetto ai 2 milioni che avevano previsto. Questo perché appunto sono entrate in funzione molte telecamere e quindi non si sfugge. C'è ancora, scrive Massimo Foghetti nell'articolo di questa mattina sul Corriere Adriatico, c'è ancora purtroppo tanta gente che magari dimenticandosi dell'impianto di videosorveglianza o credendo comunque di farla franca, di riuscire a svignarla. In realtà così non è perché sotto l'asfalto, appena oltre la linea dello stop, se voi ci fate caso ci sono delle righe sottili, delle linee sottili, ebbene, lì sono stati posti dei segnalatori che allo scattare del semaforo rosso mettono nelle condizioni delle telecamere di inquadrare la targa degli eventuali inadempienti e quindi di fargli una bella fotografia. Quest'anno, dal 1 gennaio fino al 5 novembre scorso, quando è stata celebrata la festa della Fondazione del Corpo di Polizia Locale, le multe, se non relevate, erano 5.320 contro le 1.277, pensate, nello stesso periodo dell'anno precedente, quindi davvero un'esagerazione. Poi altri numeri, se vi interessa questo articolo, altri numeri li troverete acquistando il Corriere Adriatico questa mattina. Poi c'è il problema a Fano di un pazzo che si diverte a incendiare i cassonetti e lo sta facendo da quasi due anni, un anno e mezzo se vogliamo essere precisi. Più o meno si agira sempre nella zona del mare, Lido, Sassonia, lambisce il centro storico, ma diciamo che la zona che preferisce e predilige è quella del mare. Ebbene, questo signore di cui non si sa nulla, non sappiamo nemmeno se lo stanno cercando, perché evidentemente agendo in piena notte non è facile neanche che questo venga visto così facilmente. Beh, insomma, gli ultimi cassonetti bruciati sono negli ultimi due o tre giorni, insomma, un episodio a Carrara che però è considerato accidentale, mentre gli altri due casi sono invece di matrice dolosa. Tra l'altro c'è anche da sottolineare il fatto che ogni singolo cassonetto si aggira intorno ai 700 mila, scusate, 700 euro. Il che cosa significa? Che poi li paghiamo tutti, paga la collettività, paga il Comune, paga ASE, però comunque paghiamo noi. Ebbene, in questo articolo che pubblica il resto del Corriere Adriatico questa mattina, c'è anche però un altro intervento che viene segnalato dai Vigili del Fuoco, nella notte fra domenica scorsa e ieri, quando i pompieri sono stati impegnati a Fano in un principio d'incendio, anzi a Isola di Fano, nel comune di Fossombrone, in un casolare abitato da un pensionato tantenne, che a causa di un problema elettrico si è infiammata una termocoperta e ben presto il fumo che ne sprigionava ha iniziato a saturare l'aria, divenuta poi irrespirabile. Però, insomma, per l'anziano nessun problema. Carignano. Carignano è una zona, sempre siamo a Fano, dove una volta c'erano le terme, era una zona molto bella, che però via via, man mano, negli anni, si è andata un po' perdendo, ha perso un po' di appeal, non c'è granché. E così un po' di... alcuni residenti si sono rimboccati le mani, che hanno mandato un po' di sms, un po' di whatsapp, hanno cominciato a convocarli in un'assemblea, che ha deciso di far rinascere questo bel borgo, che è appunto Carignano. E il comitato ricomincia dai residenti. C'è stata questa follata assemblea, Maggioli, uno degli organizzatori, ha detto, adesso basta lamentarsi, abbiamo deciso di progettare con obiettivi concreti. Tra l'altro a questa assemblea ha preso parte anche il sindaco di Fano, Massimo Serri, e anche il vescovo Trasarti, che si sono detti pronti a sostenere le varie iniziative. C'è una nuova, invece, associazione, che è nata a Fano, ed è l'inaugurazione, in questo caso si chiama Circolo Idefix, che rappresenta l'associazione nell'azienda agricola Terra Mare al prelato di Fano, e questa associazione, che è poi lega ambiente, si è insediata dunque stabilmente a Fano. Sabato è stata inaugurata la sede, appunto, a Terra Mare al prelato. Il direttivo, cito solo la Presidente, che è laureata in Scienze Ambientali ed è tra i più giovani Presidenti d'Italia, Famela Canistro, di 27 anni, e che guida questa associazione, che già sta facendo un po' discutere, perché? È entrata subito nel dibattito cittadino, soprattutto per ciò che riguarda il digestore anaerobico, secondo, appunto, questa associazione. Dicono che più del 30% dei rifiuti da noi prodotti finiscono fuori regione, fuori dalle marche, in quanto non sono presenti strutture idonee per riutilizzarlo, e questo è un problema sia economico che ambientale, in quanto tutta la differenziata, spesso di ottima qualità, da prodotta localmente, viene però gestita fuori regione, alimentando di fatto l'estrazione dei combustibili fossili, sulla quale si continua a fare riferimento. Con il digestore anaerobico, oltre a smaltire i nostri rifiuti organici, si produce anche biogase e biometano di ottima qualità, permettendoci anche di non acquistarlo all'estero. Questa è la parte, diciamo, il lato A della medaglia, però c'è anche evidentemente un lato B che invece sta facendo preoccupare i residenti, non solo i residenti, che invece hanno promesso battaglia e continueranno a farlo nei prossimi mesi, anche con l'inizione di un referendum. Poi hanno parlato, legambiente, anche del problema delle nutrie che proliferano nel canale Albani e molte aree del nostro territorio. Si tratta di animali esogeni sfruttati per la loro pelliccia che nel nostro territorio non hanno competitori naturali e rappresentano dunque una minaccia per l'ecosistema. Si riunisce il parlamentino dei millennial, concorrerà a disegnare la città del futuro. Questa è la terza pagina di Fano del Corriere Adriatico con Fano Young Lab Seri inaugura la stagione della partecipazione dei giovani ai quali dice ampliamo le prospettive. E poi il cestone di Natale per le associazioni dove dentro questo cestone ci sono i contributi in soldi. Alla Fano dei Cesari quasi la metà della somma stanziata, alle altre integrazioni che vanno dai 5.000 ai 1.000 euro. Dunque ci sono questi 28.000 euro a favore della Fano dei Cesari nel cestone natalizio dei contributi straordinari. Poi ce ne sono altre, ci sono tante altre cifre. Birra d'Augusto 3.500 euro. Poi c'è per la tombola di San Paterniano 3.000 euro. 2.500 euro al Palio delle Contrade, dunque la Pandolfaccia. Poi agli alberghi consorziati 1.000 euro. Insomma ce ne sono tanti di questi contributi che sono stati erogati in questi giorni. Poi naturalmente a primeggiare il Carnevale di Fano che il Comune di Fano sostiene con 130.000 euro mentre la Regione ne mette sul piatto 35.000 e il Ministero dei Beni Culturali 60.000. Subito dietro poi c'è Fano Gez che percepisce 120.000 euro 39.000 euro dalla Regione e 61.000 dal Ministero. E poi abbiamo detto per la Fano dei Cesari ai 78.000 euro delle casse comunali vanno sovrapposti anche 11.000 euro della Regione mentre il Festival Brodetto se ne vanno 104.000 euro in servizi. Passaggi Festival è ferma sui 40.000. Insomma ce ne sono di contributi che sono stati dati anche perché poi questi contributi vanno ad associazioni che creano il cartellone estivo soprattutto degli eventi. E allora Tito confermato al timone del Panadon Club ha rinnovato il direttivo, poi sarà nominato il vice e distribuiti gli incarichi. Dunque per altri due anni sarà Fabrizio Tito a guidare il Panadon Club di Fano. La cronaca da Vallefoglia. Pulmino si schianta contro un'azienda. Abbiamo visto in apertura il mezzo con sette lavoratori straniere è andato a sbattere sul muro dell'azienda Alba Mobili. Quattro le persone ferite. Di mattina la crambola invece tra auto sul ponte di Coldazzo ha portato alla chiusura della provinciale. Un incidente che invece è avvenuto alle 6.30. Quindi si parla di questi due incidenti. Il primo che è avvenuto alle 6.30 e l'altro alle 14.30. Mentre a Vallefoglia abbiamo visto, l'abbiamo anche promossa e pubblicizzata noi sulla nostra emittente a Vallefoglia c'è per la prima volta la festa del tartufo che è andata bene. La prima è andata bene, la mostra a mercato al centro commerciale e dunque si replica sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in Piazza della Repubblica a Montecchio per i mercatini di Natale organizzati dal Proloco. Bagni sporchissimi invece a Urbino in ospedale, all'interno dell'ospedale. Se non cambia chiamerò le iene. La segnalazione e la minaccia è del figlio di un degente dopo la riduzione dell'orario imposta dall'impresa di pulizia. Poi la fotografia invece per il sogno di questo ragazzo non udente un ragazzo sordo, il grande cuore dell'arma, Francesco, dicono è uno di noi. Guardate, bello sorridente, Francesco Federici che divenne sordo a seguito di una delicata malattia sognava ed ha sempre desiderato diventare un carabiniere e con quelli dell'uniforme dell'arma difendere i valori con cui è stato cresciuto cioè legalità, onestà, vicinanza e protezione dei cittadini. E alla presenza del sindaco Gambini i carabinieri della compagnia guidate dal capitano Renato Puglisi lo hanno ufficialmente riconosciuto come collega. Cose straordinarie. La festa accende Corso Garibaldi a Fossombrone uno spettacolo che convince tutti quanti dopo le edizioni sottotono Magico Natale ritrova i vecchi fasti e i commercianti sono contenti, sono positivi c'è questa fotografia che spiega più di mille parole come è andata in questi giorni l'accensione dell'albero e delle luminarie nel corso centrale di Fossombrone guardate quanta gente che c'è mentre a Colli al Metauro saranno contenti perché arriverà la banda ultra larga addirittura nel primo Colli al Metauro è il primo del cinque comuni dice qui la regione farà il collaudo della fibra ottica allora sposteremo Fano TV a Colli al Metauro visto che qua invece siamo come nel terzo mondo dove abbiamo sieno pochi mega di download sono sempre polemiche sulla fibra perché veramente è scandaloso poi prima o poi andremo dal prefetto perché non si può andare avanti così domani si laurea il primo studente detenuto a Fossombrone un giorno speciale per gli ospiti della casa di reclusione di Fossombrone in programma il conseguimento della prima laurea di un detenuto studente del polo universitario che è attivato dall'Università di Urbino un'iniziativa nata nel 2005 e operativa dal 2016 promuovere la montagna e il tartufo siamo a frontone per gli studenti lezione ad alta quota l'iniziativa è in sinergia tra il Catria Outdoor e Survival Academy e l'Accademia Italiana del Tubero d'Oro bacino idrico la provincia avvisi la regione gli ambientalisti chiedono a Via Gramsci dove sede la provincia di comunicare il mancato finanziamento invece se Collia e Metauro sorride e brinda alla banda ultralarga a Mondolfo si raccolgono delle firme per averne un po' di questa banda larga pronti ad una seconda raccolta i promotori ricordano che il Corecom si è riunito ma le sue conclusioni non sono ancora note a Cattolica invece picchia la madre arrestato a un sedicenne custodia cautelare sciocca Cattolica l'accusa di maltrattamenti in famiglia i soprusi andavano avanti da un anno pretendeva molti soldi per bici, abiti costosi quando arrivavano gli amici sbatteva fuori di casa la mamma la donna è separata e in una circostanza è finita anche al pronto soccorso con diverse ferite mentre al Posillipo di Gabice una razzia di vino con 60 bottiglie da 20.000 euro che sono state rubate ma è stato un furto studiato nei minimi particolari e il blitz è avvenuto passando da una finestra andiamo a Pesaro a Pesaro perché per chi vuole aprire un'attività ci sono nuovi sgravi per chi investe un accordo tra comune e associazioni commercialisti via i paletti territoriali e più comunicazione le attività che apriranno saranno rimborsate a livello di imposte entro il 30 settembre per tre anni quindi negozi, laboratori, start-up, imprese potranno ottenere benefit su una consistente fetta di imposte locali e dicevamo per le imprese che apriranno d'ora in poi non c'è più questo obbligo di assunzione o di aperture anche se fuori dal centro storico con l'allargamento dunque della platea alle partite IVA il rimborso del 50% dell'Atari oltre alle tasse locali sempre per i primi tre anni di vita poi sempre su questo tema dai palazzi storici a Pesaro ai giardini per un centro più attrattivo sotto le feste si sfruttano contenitori di prestigio per iniziative a tira pubblico mentre la CNA con il suo presidente provinciale Fausto Baldarelli punta l'indice contro il governo il sistema degli appalti rischia dice Baldarelli di restare bloccato e a questo ci opponiamo convintamente a questa misura prevista nel decreto collegato alla legge di bilancio 2020 che impone il trasferimento dell'obbligo di versamento diretto delle ritenute alle imprese appaltatrici, affidatari e subappaltatrici mentre si è riunito c'è stata l'assemblea degli albergatori gli albergatori che hanno ingoiato dopo aver ingoiato la pillola della tassa di soggiorno in aumento a Pesaro ora battono cassa al comune 10% per promozione, rimborso sui versamenti dell'imposta subito un progetto per il lungomare di davanti e mettono nel mirino i locali della zona mare che sono molto chiassosi dicono loro e chiedono quindi più controlli e più multe Fabrizio Oliva tra l'altro che si è presentato ieri pomeriggio all'hotel Flaminio scusate l'assemblea annuale dell'APA che presiede con un assegno di 2.000 euro raccolto dagli associati a favore dell'acquisto di una idroambulanza che è stato consegnato all'Obsa ha fatto questa relazione dove ha parlato dell'estate 2019 che comunque ha avuto un incremento di presenze ma non di fatturato bene promuovere il mare dice Oliva ma il turista oggi al turista non basta più l'ombrellone vuole vivere anche gli eventi culturali enogastronomici le bellezze dell'entroterra e dunque si punta per il prossimo anno in particolare a Raffaello e quindi a Durbino anche se a Durbino però sicuramente molto ne beneficerà anche la città di Pesaro Pesaro che oggi ospita la giornata dell'orgoglio marchigiano nel pomeriggio al teatro Rossini con il governatore Luca Ceriscioli che porta questa festa itinerante praticamente a casa sua con una sfilza di premiati anche se non ci sarà Andrea Bocelli che riceverà comunque simbolicamente il picchio d'oro ma non ci sarà nemmeno il padrone di casa il sindaco Matteo Ricci al suo posto ci sarà Daniele Vimini il vice perché Matteo Ricci sarà insieme ad altri 600 sindaci da tutta Italia a Milano per testimoniare che l'odio non ha futuro cioè la manifestazione di solidarietà voluta dal sindaco di Milano e dallo stesso Ricci per testimoniare insomma l'affetto alla senatrice a vita Liliana Segre ora questa è la pagina di Pesaro la terza pagina di Pesaro dove si parla invece di una sfida sotto canestro che è un'iniziativa che ci sarà domani alle 20 e 30 al pala Nino Pizza di Pesaro un amichevole di pala canestro in carrozzina tra la carpegna prosciutto basket Pesaro e la riviera basket Rimini che milita nel campionato di serie B di basket in carrozzina e poi questa è la fotografia invece dove l'amministrazione di Pesaro ha consegnato attestati di riconoscenza ai 76 docenti in pensione una cerimonia che si è svolta nella sala rossa e poi nel campo spunto nordigno bellico nella zona di Borgo Santa Maria all'interno di un terreno agricolo nel corso di alcuni lavori di sistemazione dell'appezzamento dove appunto è affiorato tra le zolle di terra un ordigno della seconda guerra mondiale ancora velocemente siamo in chiusura c'è la pagina della politica marchigiana dove si discute sulla possibilità o meno di candidare Ceriscioli alla corsa per il secondo mandato come governatore della regione due alleati sono con Ceriscioli gli altri invece sono contro il segretario del partito Gostoli media dice parliamo di una fase nuova il tavolo della coalizione socialisti e verdi difendono il governatore mentre articolo 1 Italia Viva e le civiche insistono per un cambiamento andiamo velocemente sulla pagina delle Marche con il ponte crollato lo ricorderete sulla 14 tra Camerano e Castelfidardo questo crollo come il ponte Morandi a Genova la PM chiare analogia la tragedia di marzo del 2017 dove tra l'altro morirono due persone marito e moglie gli eredi delle vittime riserciti in sede civile chiudiamo con la gestione della Rocca a gradare il comune venga coinvolto l'interrogazione del consigliere regionale Biancani e del PD si renderà più fruibile e questa appunto era l'ultima notizia della nostra rassegna oggi solo con il Corriere Adriatico perché come abbiamo detto all'inizio della rassegna insomma il resto del Carlino non era accessibile ma non per problemi che dipendono da noi ma semplicemente dal server del quotidiano stasera ci vediamo alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia se avete segnalazioni come sempre mi raccomando scrivete a questo numero di telefono grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti